Coach Massimo Monfreda, tragettatore perfetto di questa Volalto, oggi contro Olbia è stata l'ennesima prestazione più o meno perfetta della tua squadra. Diciamo che per la perfezione bisogna lavorare ancora tanto. Sapevamo di incontrare una squadra che era molto molto forte in difesa e l'ha dimostrata stasera di raccogliere l'impossibile. Avevo detto ai ragazzi di avere molta pazienza, di non scomporsi, di già sapere che bisognava attaccare 3-4 volte, semmai attaccare su delle persone che avevano qualche problemino a muro, quindi avevo dato indicazioni di sfruttare alcune carenze dell'Olbia. Però in certi momenti della partita a volte manca la lucidità, allora fai attacchi diversi e trovi di fronte i giocatori più bravi a muro o più bravi in difesa che ti raccolgono l'impossibile. Diciamo che è stata una bella gara, abbiamo battuto recentemente, rischiando anche qualche osino in qualche momento, che forse non dovevamo, però bene così. Ci sono andati in crisi di gestione, era quello che volevamo che tenessero la palla distante dalla rete per evitare che facessero questi primi tempi. Per buona parte della gara ci siamo riusciti. Massimo, ecco, oltre al Sestetto e Barone che hanno giocato un'ottima partita, stavolta anche la panchina è entrata, ha avuto un ottimo impatto sul match, quantomeno la proposta mentale, armonia nel terzo set, ma la Sesta del Valle si è dimostrata comunque fredda in senso positivo. Sì, hanno disputato un bel incontro anche loro, un bel ingresso con personalità. Ho sfruttato Marica anche il giro che andava dietro di battuta, il suo turno di battuta, perché sapevo che se riesce ad avere la possibilità di fare qualche battuta in più fa molti danni e quindi l'ha dimostrato nel terzo set. Poi è fatto piacere anche per Martina che deve e ha bisogno purtroppo di campo e di dimostrare quello che vale e in queste occasioni deve farsi trovare pronta, purtroppo in questo momento è quello che può dare la squadra e noi ce l'aspettiamo, perché fare delle rotazioni con l'attacco sempre a tre è importante. Possiamo essere una spina nel fianco, perché non so quante squadre hanno un doppio cambio come l'abbiamo noi, perché Marica potrebbe fare la titolare in qualsiasi altra squadra, quindi dobbiamo sfruttare questa situazione.